buon di buona gente sono luigi in arte illusio e benvenuti a questo nuovo video questo video che conclude questo 2022 che personalmente per me è stato un anno davvero pieno pieno di soddisfazioni pieno di tanti cambiamenti e devo dire era da un bel po' che non mi capitava un anno di concludere un anno con molta positività e con tante speranze per l'anno nuovo viviamo un po' in un periodo in un contesto in cui diventa quasi un po' una macchietta un po' un'abitudine lamentarsi della fine di un anno e già partire dal presupposto che il nuovo anno sarà altrettanto peggiore se no altrettanto brutto quanto il precedente se non peggio oddio ci sta veramente chi magari vive un anno brutto per motivi personali per varie motivazioni io non sono nessuno per giudicare assolutamente però capita alle volte di finire un po' per scadere un po' nell'abitudinaria alle volte anche un po' nel farsesco penso che seguiamo quasi tutti su instagram sapore di male che probabilmente da questo punto di vista è un po' un emblema del del disincanto un po' del del cinismo graffiante e ironico che contraddistingue un po' la nostra epoca e mi ci abbino anch'io perché anche io un po' se penso agli altri anni ho avuto un bel po' da ridire già solo se penso all'anno scorso al 2021 ci sono stati pare ho avuto parecchi bassi oltre che molti oltre che pochi alti questo 2022 però pur avendo avuto qualche basso ha avuto un bel po' di alti in più come vi dirò poi a mano a mano però ovviamente vorrei iniziare prima da quella che è un po' una tradizione un po' standard di questo dei video di fine anno oltre agli auguri che vi faccio e che vi inizio già a fare adesso a tutti quanti voi che mi seguite e che vi farò anche a fine video ovviamente ma vorrei iniziare con quello che come dicevo è diventato un po' il must un po' la tradizione del canale per il video di fine anno ovvero la top delle letture migliori che ho fatto quest'anno ero partito dal fatto di dover fare una top 3 una top 5 però alla fine ho detto vabbè sai cosa prendo tutti i libri che mi sono piaciuti in quest'anno e ve li espongo non c'è che ci vado tanto per il sottile tipo top 5 top 10 top 3 chi se ne frega dai parlo dei libri che mi sono piaciuti e quelli sono indipendentemente da se sono pochi o meno e quest'anno sono stato pure parecchio fortunato dal punto di vista delle letture perché mai come quest'anno ho avuto tante ho fatto tante letture che mi sono rimaste particolarmente impresse che mi sono veramente ma veramente piaciute a molti di questi libri poi ho anche dedicato delle video recensioni o mi sono serviti per fare dei video approfondimenti o delle video lezioni ma e caso mai qualora voleste recuperarli ve li lascio o linkati qui nel pallino magico oppure qualora non dovessero rientrare tutti perché comunque ho un massimo di 5 ma non lo so un massimo di 5 video che posso mettere nel pallino magico i restanti li metto qua giù nell'info box qua dentro dove potete trovare anche dove vi lascio anche il link amazon se volete acquistare questi video di cui vi parlerò e poi vi lascio tutti i miei canali social la mia wishlist di amazon sta tutto quanto sempre qui nell'info box quindi ma fine delle premesse che è una premessa fin troppo lunga per il vabbè è nei miei standard quindi ormai se mi seguite da fino a questo momento avrete capito un po' che io sono il il mago delle delle premesse lunghissime quindi tagliamo la testa al toro e passiamo a le migliori letture di questo anno 2022 che sta per concludersi e non posso non iniziare da quella che secondo me è stata la la lettura top di tutto l'anno la miglior lettura in assoluto volevo mostrarvelo in cartaceo ma mi deve ancora arrivare purtroppo sotto le feste gli ordini in libreria sono sempre difficoltosi soprattutto quando si tratta di questo tipo di libri che non sono in italiano sì è perché la lettura migliore di quest'anno per me è stata the sun in splendor di sharon k penman il romanzo su riccardo terzo d'inghilterra e sulla storia della guerra dei cugini o guerra delle due rose e di tutti gli altri personaggi che hanno composto questa parte di storia inglese della quale sto parlando anche adesso nelle mie video lezioni al momento avevo ripromesso di far uscire il video su giorgio di clarence prima di questa prima della fine dell'anno però purtroppo motivi lavorativi impegni e quant'altro mi hanno un po impedito però considera però teniamo allora da conto che sarà la prima video lezione dell'anno sarà proprio dedicata a giorgio di clarence spero di poter essere un po più celere e questo è per i propositi del non voglio correre per i propositi del nuovo anno quindi andiamo va con ordine bene e quindi per me questo ragazzi the sun in splendor penso sia stata la lettura migliore in assoluto per me questo 2022 è stato anche l'anno in cui ho ripreso a leggere i romanzi storici cosa che non facevo da un bel po di tempo perché io che da grande appassionato di storia quale sono mi costa mi è sempre costato parecchio leggere romanzi storici scritti con i piedi con minima competenza dove si si piega tutto quanto a un po che sono a quelle che sono un po le convenzioni stilistiche o un po al pubblico al quale l'autore o l'autrice vuole rivolgersi quindi dare una maggiore attenzione a fattori minimi valorizzare eccessivamente la parte romantica anche quando l'amore non c'entra niente assolutamente il banalizzare determinate figure storiche sbagliando poi perché si parte dal presupposto che si voglia dare più valore a queste figure storiche però si finisce per banalizzarle piegandole a quelle che è un po uno spirito moderno cosa che invece non avviene in questo romanzo in questo romanzo che ci restituisce che in cui l'autrice ci restituisce non solo un contesto storico molto accurato e preciso e che non strizza mai l'occhio alla modernità come si tende a fare oggi di solito con molti romanzi storici contemporanei ma restituendoci poi anche dei ritratti molto umani dei personaggi che non sono mai né buoni o cattivi ma sono appunto umani sono grigi un personaggio che noi possiamo inquadrare come cattivo in un certo punto finiamo poi a spesso e volentieri per riconoscergli delle motivazioni o delle ragioni come può succedere ad esempio con elisabeth woodville che in questo romanzo ci viene presentata come una arrampicatrice sociale spesso e volentieri come qua ai limiti proprio di una donna assetata di potere che è disposta a sacrificare di tutto anche i suoi figli pur di ottenere e raggiungere il potere però arriviamo in certi momenti in cui riusciamo anche a comprendere la difficile situazione in cui questa donna si ritrova calata quindi quasi non dico a giustificare le sue azioni ma permetterci di comprenderle stessa cosa anche che so per gli esponenti dei Beaufort dei Beaufort che combattono contro gli York a favore dei Lancaster o anche la figura di Isabella d'Angelo la regina dei Lancaster qui ci viene che qui ci viene presentata prima come la nemica proprio di tutta la prima parte del romanzo ma che poi ci viene mostrata anche per quello che è una madre alla base e poi anche la figura di Giorgio del quale parlerò prestissimo nella video lezione che sto di cui sto terminando lo script che è una figura molto più complessa di quanto non ci si creda alle volte anche fin troppo da un punto di vista storico parecchio ignorato e sottovalutato per non parlare poi dei due protagonisti ovvero Riccardo di Gloucester poi Riccardo III e di Anne Neville il suo grande amore delle figure che sono veramente affascinanti e per me che sono sempre stato uno molto ostico alle storie d'amore leggere una storia d'amore come la loro in questo romanzo è stato qualcosa di bellissimo e da qui in poi poi anche per anticiparvi che appena mi sarà arrivato anche la versione cartacea di questo romanzo per il 2023 inizierò anche il podcast su questo romanzo in cui tradurrò alla meno peggio alcuni passaggi dei dei capitoli li analizzerò ne parlerò ne spiegherò alcuni nei dettagli e così in modo da poter permettere anche a chi non ha letto questo romanzo a chi ha difficoltà a leggere i libri in inglese di meglio conoscere e approfondire questo romanzo che secondo me è bellissimo e praticamente forse uno dei romanzi storici più belli che mi sia mai capitato di leggere veramente il la lettura top di questo 2022 e iniziamo benissimo altra lettura che ho molto apprezzato è sicuramente questo qua la raccolta delle poesie delle sorelle bronte che è uno di quei libri che io aspettavo che ripubblicassero da una vita purtroppo nell'edizione mondadori che raccoglieva tutte le poesie delle tre sorelle bronte ovvero charlotte emily e ann era fuori catalogo ormai da quasi vent'anni e sapere poi che era stato dato di nuovo alle stampe per me è stata una bellissima sorpresa ed è stato qualcosa di bellissimo anche perché è stato il libro giù quello che io chiamo il libro giusto al momento giusto paradossalmente quando ho iniziato a leggere le poesie delle sorelle bronte stavo affrontando uno dei miei soliti periodi bui uno dei miei periodi i miei uno dei miei bassi ecco diciamo così e mi hanno riconfermato come già mi aveva confermato la lettura delle poesie di emily dickinson che la poesia può ancora essere la cura migliore per l'animo e mi ha permesso non solo di ritrovare l'intimità di tre scrittrici che io amo particolarmente che ho che apprezzo tantissimo mi ha permesso di vedere riassunti i loro pensieri quindi quello più spirituale e semplice della minore delle tre sorelle ovvero anna quello più però quello più narrativo e magari anche un po impostato della maggiore charlotte fino ad arrivare poi al titanismo romantico della seconda sorella emily quella che ha scritto molte più poesie che che ha scritto forse i componimenti poetici più belli in assoluto più spettacolari talmente quasi mi verrebbe da dire aerodinamici che sono versi che ti fanno volare ti porti strappano alla terra e ti fanno volare oltre le nuvole ti fanno percorrere le nebbie della brughiera dello yorkshire da lei tanto amata e veramente ragazzi qualcosa di incredibile un qualcosa che ti lascia incatenate alle volte anche ti strappa il respiro dal petto se non l'avete ancora lette e siete appassionati di poesia o siete appassionati delle bronte io ve lo consiglio è un qualcosa che non può non mancare nella biblioteca di ogni di ogni lettore o lettrice bene e rimanendo e ritornando un po al tema dei romanzi allora per questo terzo libro era un po indeciso mi dovete credere non sapevo se inserirlo o meno perché non è un po non è tanto un po nel genere dei libri che io tengo nel diciamo che io annovero come tra le migliori letture ma a questo giro ho pensato riflettendoci un po che ne valeva la pena sto parlando di c'era una volta un sogno di litz branswell uno dei romanzi uno dei due romanzi usciti quest'anno della serie della giunta editori è twisted tale ovvero la rilettura in chiave più dark e più drammatica e più adulta dei classici della disney alle quali sta praticamente dedicando tutto una rubrica di recensioni manca ancora la quello là di della rilettura di rapunzel che ho da mesi ormai che aspetta ancora di essere letta però ho avuto delle letture che mi hanno hanno catturato maggiormente la mia attenzione quindi devo ancora leggerlo quello su rapunzel sto aspettando che esca quello là della bella e la bestia che lo sto attendendo da quando hanno iniziato le traduzioni di questa di questa serie di romanzi proprio spero che nel 2023 mi porti anche la rilettura della bella e la bestia che è un altro dei miei classici preferiti ma perché ho inserito questo qua la rilettura della bella addormentata nel bosco della disney beh perché devo dire fra tutti i libri che ho letto fino ad ora della serie di twist e tale penso che questo sia quello più bello più pregevole più meritevole di di attenzione nonostante forse sia uno dei più brevi infatti ha soltanto quattrocento venti quattrocento venti aspettate no quattrocento ventotto pagine ed è il più uno dei più brevi in assoluto perché alcuni ne hanno anche di più mi pare che quelli più lunghi sono proprio quello su rapunzel e quello sulla sirenetta sì più o meno e quindi questo è uno dei più brevi però è quello che in cui ho trovato meno difetti negli altri romanzi tendevo a trovare che so qualche carenza a livello stilistico qualche dettaglio che cozzava un po troppo che aveva un po troppi buchi di trama se veniva rapportato al classico disney oppure aveva degli errori talmente banali che io però non potevo trovare assolutamente non riuscivo a perdonare proprio perché erano banalissimi roba che ha una piccola rilettura ha una revisione prima della pubblicazione si poteva anche risolvere cosa che invece non ho non ho trovato che sono le volte dei piccoli nei cosa che invece qui non ho trovato anzi qui ho trovato una narrazione perfetta coerente con il classico disney una buona interpretazione del personaggio della protagonista ovvero di aurora da sempre forse una delle principesse disney secondo me più penalizzate perché se le altre principesse disney che so avevano un margine d'azione più ampio aurora purtroppo rientrava un po troppo nello schema del della principessa basica quella che ha il sogno d'amore che alla fine grazie gli incantesimi riede tra malefici incantesimi riesce a ritrovare il vero amore a ritrovare il suo posto nel mondo ma non ha mai voce in capitolo la se andate a vedere il film della bella addormentata nel bosco le veri protagoniste nel quel film non è aurora ma sono le tre fate buone che hanno molto più scritta hanno molto più immagine da più molta più presenza là dove aurora ha pochissime battute poco spazio e per il resto poi pace pace sua figlia mia cade addormentata e qua invece ciò permette all'autrice di rinverdire proprio la figura di aurora senza snaturarla senza modernizzarla troppo ma prendendo proprio da quella base minima che ci viene restituito nel che ci viene dato nel classico disney per creare un personaggio coerente perfetto e perfettamente adatto qui facendo leva proprio su tutto quello che avviene ad aurora prima dell'incantesimo si crea un'aurora molto più consapevole molto più disincantata anche e per non parlare poi anche di un certo ad una certa allusione alla depressione intesa come malattia per chi non lo sapesse poi una delle caratteristiche della depressione è appunto il sonno il sonno che viene usato quasi come un'anestetizzazione del nostro corpo del nostro cervello che cerca di appunto addormentarsi per non soffrire per non la matrice principale della depressione e anche la figura poi di malefica non ne esce banalizzata era molto facile rischiare di scadere un po nella rilettura tipica dei dei cattivi dad che è stata fatta da dai live action dai film su maleficent in poi la malefica di questo romanzo è veramente malefica molto malvagia c'è un piccolo accenno a maleficent ma ben dosato e non ve lo voglio anticipare non voglio trovervi il piacere della lettura qualora ancora non l'aveste letto io ve lo consiglio anche se non siete lettori di di questa serie di A Twisted Tale edito dalla nostra casa editrice giunti ma ve lo consiglio se volete partire proprio da uno dei romanzi vi consiglierei di partire da questo qua che secondo me è il migliore fino ad ora tra quelli pubblicati poi intanto ve l'ho detto devo ancora leggere quello suo su Rapunzel poi dovrebbe uscire ne devono uscire anche altri ma andiamo avanti si vedrà vediamo tempo al tempo e prossima lettura e qua secondo me molti di voi mi accuseranno di essere molto molto pretenzioso ma io non nascondo di essere un tantinello un tantino snob da questo punto di vista la grazia pagana artemide estia o meglio estia e mnemosine di Ginette Paris un saggio che è psicologico analitico sul contesto degli archetipi degli archetipi mitologici gli archetipi mitologici sono la rappresentazione di determinati aspetti dell'umanità che formati sul modello delle divinità del panteon greco classico in questo caso ci sofferma su tre rappresentazioni tipicamente femminili ovvero l'archetipo di artemide ovvero della donna libera libera dalle impostazioni la donna quasi mi verrebbe da dire la donna lupo la donna cervo la donna selvatica la donna delle foreste con lei che non si lascia imbrigliare da niente e da nessuno che vive appieno la sua vita senza porsi problemi altrui a quello che forse per molti per molti versi è inteso come il suo contrasto ovvero l'archetipo di estia si dovrebbe dire estia però quest'anno proprio da un punto di vista lavorativo ho avuto contatto con due registi greci che mi hanno detto comunque che la vera pronuncia corretta proprio alla greca è estia quindi per correttezza greca dico estia che è personalmente una delle figure mitologiche e delle divinità greche che più apprezzo nonostante non compaia quasi mai nei racconti mitologici ma per ciò che rappresenta mi sta molto a cuore anche perché la associo molto a quelle che sono state le figure femminili che nel mio ambito familiare sono sempre stati molto importanti ovvero mia nonna e mia madre ora come vi dicevo la figura dell'archetipo di estia è probabilmente quasi sempre trattato specialmente in questo contesto moderno con molta diffidenza perché molti la vedono come l'archetipo della donna soggetta al patriarcato la donna solo casa e famiglia in realtà non è affatto vero perché a parte il fatto che gli archetipi maschili o femminili che siano sono maschili e femminili soltanto in base alla divinità qui li associamo ma non c'entra niente una persona può essere indipendentemente dal suo genere più vicina a una a un determinato tipo di archetipo ad esempio una donna può essere più vicina a un archetipo maschile e un uomo può essere vicino a un archetipo femminile io ad esempio non nego di riconoscermi molto nell'archetipo di estia non solo non per solo per affezione così o per apprezzamento della figura in sé ma perché io per primo se vado a vedere gli elementi dell'archetipo di estia mi ci riconosco molto e estia è probabilmente è ciò che dà valore al nucleo familiare che può essere tanto inteso come nucleo familiare biologico o comunque della famiglia intesa come il circolo degli affetti io sono uno che ci tiene particolarmente agli affetti quando sono importanti siano essi dovuti a legami di sangue o legami di affetto di amicizia e di amore ed è una cosa in cui a cui io dedico nel mio intimo molta più attenzione molta cura io i rapporti interpersonali quando li sento molto importanti tendo a curarli come con la stessa cura e delicatezza con la quale tendo a curare le piante del mio balcone e per questo mi riconosco molto nell'archetipo di estia estia che non deve essere intesa come una rappresentazione della donna soggetta al patriarcato è una donna proprio che rappresenta forse uno degli aspetti tipici della femminilità perché la femminilità è multiforme c'è la molti e infatti l'intento dell'autrice è questo dimostrare che i due archetipi quello di artemide e quello di estia non sono in contrapposizione ma sono complementari abbiamo da una porta da una parte la donna libera e la donna libera e indomita e selvaggia e ribelle e la donna che comunque diventa la grande sacerdotessa con lei che regge le fila della quotidianità dell'ambito più domestico che non deve essere inteso come una gabbia ma come il punto di raccolta non per niente ragazzi il simbolo del focolare è un è un aspetto che va che rientra tanto nell'ambito familiare quindi della casa quanto anche nell'ambito della comunità quindi del punto di raccolta di tutte le genti indipendentemente da genere razza età cultura religione il focolare verso cui magari di notte col freddo ci si raccoglie e si parla si condividono racconti esperienze e quant'altro è proprio l'emblema di della di estia e a questo punto non per niente ho citato i racconti e le memorie degli altri quando non c'è anche la figura di mnemosine che non è proprio un archetipo ma è un concetto proprio della rappresentazione della memoria e infatti l'autrice parte anche molto dal suo vissuto per raccontare e spiegare questa definizione degli archetipi e mnemosine stando nelle ultime pagine è molto importante perché ci fa capire quanto anche la nostra memoria il nostro vissuto formino ciò che noi siamo anche da un punto di vista archetipico per cui è proprio parlando della memoria mi ricollego a un'altra lettura più bella di quest'anno ovvero Marcel Proust biografia monumentale dedicata al famoso scrittore francese di fine ottocento inizio novecento autore della monumentale opera alla recherche du temps perdu alla ricerca del tempo perduto scritta dal dall'inglese George Duncan Painter allora questa è sicuramente una delle opere che da un punto di vista formativo più mi sono rimaste impresse è un'opera che mi sta aiutando moltissimo nella mia rubrica che nel mio ciclo di video lezioni che sto dedicando a Marcel Proust e alla sua recherche col quale sono ancora fermo da parecchi mesi però ve l'ho detto purtroppo ho avuto un bel po' di impegni e di accavallamenti anche a livello del calendario delle video lezioni ma presto ritornerò anche con la video lezione dedicata al secondo volume ovvero alla lombra delle fanciulle in fiore che è e riconfermo è il mio capitolo preferito di tutti i volumi di alla ricerca del tempo perduto poi ve ne parlerò più approfonditamente quest'opera mi è servita non solo ad approfondire la figura storica e biogra umana di Marcel Proust in quanto uomo ma anche per meglio contestualizzare la sua opera mi sta molto aiutando adesso nella mia anche nella mia rilettura della ricerca del tempo perduto sto riscoprendo molti dettagli che alla prima lettura che feci di quest'opera ai tempi del liceo non mi sfuggirono perché ovviamente non avevo ancora lo studio le competenze non avevo alle spalle le anni di formazione anche a livello mentale per comprendere appieno la complessità di quell'opera e soprattutto anche quanto del proprio vissuto Proust ha inserito non solo a livello di invenzione ma anche del modo in cui lui ha riadattato le sue esperienze quanto lui abbia preso la sua vita il suo passato l'abbia spezzettato e poi l'abbia ricomposto come tanti puzzle di un quadro mi verrebbe da dire molto più futurista modernista dadaista dove da un mashup può derivare tutto una varia un diverso una diversa interpretazione quindi possiamo anche vedere anche quanto ciò possa e quanto anche abbia possa aver influito il suo ambito intimo per quanto riguarda le storie d'amore quanto lui abbia preso da storie d'amore viste da spettatore esterno o come anche come le abbia vissute lui da un punto di vista interno e da questo punto di vista non posso non citare il grande amore della sua vita ovvero il compositore Reinaldo Hahn e anche poi anche il suo segretario particolare e autista Alfred Agostinelli fosse il suo amore più tormentato e che lui stesso però costruì in modo che diventasse una storia d'amore drammatica avrò tanto da dire quando arriverò ai capitoli dedicati alla storia d'amore drammatica per antonomasia della ricerca ovvero quella tra il narratore e Albertin nei volumi dedicati a Sodoma e Gomorra la prigioniera e Albertin scomparsa ci sarà tanto da dire io spero di avere proprio di dire tutto quello che avrò da dire perché mi sembra sempre che per quanto io dedichi minuti e minuti righe su righe per la stesura degli script per la scrittura degli script sull'opera di Marcel Proust mi sembra sempre di non riuscire a dire abbastanza così come non si dice abbastanza nemmeno di una figura parecchio parecchio dimenticata parecchio data per scontata ovvero quella di Anne Bronte ritorniamo a parlare delle sorelle Bronte con quello che è secondo me uno dei saggi un altro saggio bellissimo che ho letto questo quest'anno ovvero Anne Bronte la gemella minore di Beatrice Solinas Donghi opera postuma appunto di Beatrice Solinas Donghi che questa è l'ultima opera che ha scritto prima della sua morte avvenuta nel 2015 è un volume che ho recuperato proprio all'inizio del 2022 all'inizio di quest'anno e che mi è servito a riscoprire meglio quella che quella che rimane un poco la mia la mia Bronte prediletta perché non lo so sarà un effetto sarà un po' il mio essere sempre in controtendenza sarà il mio essere un poco un po' in contrasto con quello che è la parte più pubblicizzata ma là dove il mondo e l'editoria dedica ampio spazio alle figure di Charlotte e di Emily Anne finisce sempre per venire dimenticata ingiustamente secondo me e se leggerete questo saggio che è breve però è molto completo vi capirete anche come mai è ingiusto averla dimenticata perché lei non ha nulla da da invidiare alle sue sorelle ognuna delle tre sorelle Bronte aveva una sua particolarità o qualcosa che la rendeva grande Anne purtroppo ha difettato magari forse per per il fatto che le sue opere dopo la sua morte sono state relegate un po' l'ombra anche ad opera della della stessa Charlotte che poi si occupò di curare le opere delle sue sorelle dopo la loro morte e purtroppo non riuscì a dare il giusto valore alle opere di Anne che sono state delle opere rivoluzionarie se non Agnes Grey che è la sua opera più conosciuta l'altra sua opera poco conosciuta ovvero The Tenet of Wildfield Hall da noi ritradotto recentemente dalla sua edizione Neripozza La Signora di Wildfield Hall un'opera che proprio precede i tempi per quanto riguarda la tematica femminista in cui si racconta di una donna che vittima delle violenze e degli abusi del marito decide di lasciare il marito fuggendo portandosi dietro il figlio abbandonando qui rischiando quindi di venire arrestata proprio per proprio inquisita per abbandono del tetto coniugale perché all'epoca si riteneva che una donna dovesse portare pazienza a fare le sue le virtù cristiane puritane dell'epoca accettare con santa pazienza i soprusi e le violenze del marito e stare zitta al suo posto invece no la protagonista della Signora di Wildfield Hall ovvero Helen si rifiuta a questo modo di vedere e decide quindi di prendere in mano la sua vita anche per amore di suo figlio e portandolo via con sé decide di allontanarlo dal malefico influsso del padre violento e per sostenersi lavora per conto suo lavora da sola vendendo dipingendo e vendendo i suoi quadri cosa che all'epoca era quasi inammissibile una donna una donna soprattutto una donna sposata e madre di famiglia non poteva abbassarsi a lavorare a fare lavori che di per sé si ritenevano piuttosto umili e degradanti per la figura di una donna vista come solo come moglie e madre e il tema del lavoro è un aspetto che ritorna a sé spesso e volentieri anche nelle opere di Charlotte però laddove Charlotte una donna non è mai completa se prima non si sposa nell'opera di Anne una donna non deve sottostare per forza ai vincoli del matrimonio quando tale matrimonio è vissuto come un dramma è vissuto come una sofferenza da parte della donna quando è vittima degli abusi del marito e da questo punto di vista ve lo devo dire ragazzi è stato un po mi sembra quasi la signora di wifey hall vista attualmente sembra quasi uno schiaffo morale in piena faccia dato a molti romanzi young adult per ragazzine in cui si vede la storia d'amore tra la ragazza a quei sapone e il bad boy quindi la romanticizzazione delle relazioni abusive questo è proprio uno schiaffo in faccia questo modo di vedere le storie d'amore e stiamo parlando di una scrittrice di metà 800 che ha scritto questa opera nella prima metà dell'ottocento quindi praticamente 150 anni fa 170 180 anni fa 180 anni fa e lei aveva una visione molto più moderna cioè guardate ragazzi la visione di oggi di molti romanzi è molto più arretrata in confronto a quello che ha scritto Anne Bronte per questo io dico che è una è una scrittrice che va rivalutata e va riletta sotto un'ottica molto nuova e mai da e soprattutto ragazzi non bisogna darla per scontata dai giustizia per Anne e con questo ragazzi io concludo la mia lunga sequela di le letture migliori di quest'anno adesso mi si è creata un poco la pila scusate lo appoggio un attimo qui ecco fatto ecco qua non cadere ecco perfetto bene ragazzi e allora non vi voglio trattenere oltre perché immagino che sarete tutti impegnati con i preparativi per il cenone di di fine anno ci stiamo preparando psicologicamente per la mezzanotte io mamma mia io già io sto diventando avendo un po di problemi all'udito non riesco quindi a sopportare i rumori forti quindi se penso un po coi botti di questa di questa notte mamma mia io mi già mi sento la testa che mi rintrona mi dovete credere comunque a parte i miei acciacchi per l'età a parte mi sto facendo vecchio scusate allora vorrei tirare un po le somme di quest'anno come vi ho detto questo 2022 per me è stato pieno pieno di avvenimenti e pieno di avvenimenti anche belli per la maggior parte o comunque sto tenendo a mente mi sto aggrappando proprio alle cose più belle di quest'anno allora per cominciare ragazzi da un punto di vista di questo canale ho raggiunto e superato i 1000 iscritti al mio canale e per questo non smetterò mai di ringraziare tutti voi che mi seguite tutti voi che commentate tutti voi che mettete mi piace anche tutti voi che mettete i non mi piace anche voi che mi fate che mi fate notare quando sbaglio dove dovrei correggermi per migliorarmi eccetera veramente a voi che mi sostenete in tutti i modi possibili e immaginabili veramente io vi ringrazio veramente ma veramente di cuore mi dispiace non riuscire mai a tenere un contatto come vorrei ma come avrete capito anche per chi mi segue su instagram o su facebook avrà notato che io sono poco social di mio ma sono proprio io che sono proprio poco attaccato ai social se andate a parlare con qualche per con le persone che mi conoscono di persona vi diranno che io sono uno che pure su whatsapp ci sta pochissimo ma cerco di starci più c'è ad esempio i commenti vi cerco di rispondere sempre a tutti quanti nei commenti e anche se ho perché mi contatta poi su instagram su facebook io cerco sempre di rispondere il prima possibile veramente e non smetterò mai di ringraziare tutti voi che veramente mi non pensavo quando ho aperto questo canale che sarei riuscita ad arrivare a questo traguardo che questo traguardo l'avrei anche bellamente superato e che le cose sarebbero andate sempre sempre in meglio è stato un qualcosa di incredibile io che ho iniziato che ho aperto questo canale per per darmi una scossa per uscire da un po' dei miei periodi bui ritrovarmi un po' a fare un po' anche il creator qui su youtube è stato veramente un qualcosa che mi ha aiutato e che mi sta aiutando molto io infatti tra i propositi che ho per questo 2023 è di investire maggiormente su questo canale da un punto di vista anche lavorativo quindi anche voglio aumentare anche il tiraggio delle dei video una cosa che mi è che mi è dispiaciuto molto soprattutto in quest'ultima fase è stato di radare le video lezioni però come avrete notato ultimamente i miei video stanno diventando le mie video lezioni soprattutto stanno diventando molto più lunghi perché comunque metto molto più materiale nei miei script quindi il materiale su cui studio diventa maggiore scrivo molto ma molto di più però al tempo stesso devo anche dividermi tra i miei impegni di tutti i giorni quindi anche che so i lavori sui set cinematografici quando mi capita di venire preso poi anche il lavoro quali all'ambito domestico perché purtroppo mi sto gestendo io da solo perché purtroppo mio padre non ha ha diciamo ha delle difficoltà di conseguenza sono io che devo svolgere un po i lavori qui in casa e però una cosa che voglio fare in questo 2023 è investire maggiormente su questo canale far fruttare quelli che sono un po i numeri che mi stanno venendo a livello di della dashboard quindi con le visualizzazioni i commenti i mi piace e non mi piace eccetera e i nuovi iscritti soprattutto e soprattutto lo voglio fare per voi voi che mi seguite quindi voglio investire maggiormente su le video lezioni che mi stanno che mi state richiedendo che mi state aiutando anche a creare donandomi i libri che ho nella mia wish list di amazon non smetterò mai di ringraziarvi anche per questo davvero e quindi tutte le idee che poi che le farò a voi tutti i ringraziamenti ve li farò in ogni video e per questo ho detto voglio investire maggiormente sui contenuti di questi di questo mio canale voglio farne molti di più per quanto posso e voglio riuscire veramente a farne non mi voglio dare non voglio non voglio darmi re qui ecco voglio anche a costo di frustarmi di sbar di frusticarmi sulla schiena per andare avanti proprio ecco voglio voglio darmi veramente tanto da fare quest'anno e non solo per quanto riguarda l'ambito lavorativo in questo canale ma anche per quanto riguarda il mio ambito lavorativo esterno per chi mi segue sa che io comunque ambisco proprio a lavorare nell'ambito della recitazione per fortuna mi trovo in un momento particolare in un contesto attuale in cui sto lavorando molto di più e soprattutto poi anche per quanto riguarda il teatro quest'anno proprio negli ultimi mesi ho ripreso finalmente a recitare mancavo dal teatro dalla pandemia quindi erano dal 2020 state conto sono due anni e mezzo quasi tre anni che mancavo dal teatro e ritornare dopo questi ultimi mesi in quest'ultima fase dall'autunno di questo di quest'anno a fare teatro a ritrovarmi con persone che conoscevo magari lievemente oppure che ho imparato a conoscere adesso o persone proprio amicizie di lunga data di vecchia data che ho ritrovato a teatro è stato qualcosa che mi ha veramente aiutato soprattutto mi ha aiutato a uscire fuori da quello che è stato forse l'ultimo periodo brutto di quest'anno in cui in cui ho dovuto in cui mi sono ritrovato a chiudere un vecchio conto in sospeso del mio passato non vorrei scendere non scendo troppo nei dettagli abbiate pazienza e soprattutto ho avuto un allontanamento da un'amicizia che per me era molto importante non c'è stata una rottura c'è stato però un raffreddamento una rottura che era già nell'aria da dall'anno scorso che quest'anno purtroppo è stata confermata ed è una cosa che mi ha fatto pure molto male perché si trattava di una delle mie amicizie più solide di quelle che mi portavo proprio dagli anni del liceo è stato brutto constatare che si era giunti al capolinea e devo dire ricominciare il teatro ricominciare a recitare a teatro nel mio piccolo nel mio comune qua a Pomigliano mi ha molto aiutato mi ha fatto ritornare veramente la serenità ho ripreso veramente a respirare ho sentito il mio cuore che tornava a battere in maniera tranquilla e con quei traboccamenti di emozioni che mi fanno stare bene mi fanno provare gioia mi fanno mi fanno sorridere per la voglia proprio di sorridere io ho sorriso tanto quest'anno e sto sorridendo anche adesso che ve lo sto dicendo perché sto ripassando a mente tutti i momenti belli che ho vissuto quest'anno tutte le persone che mi hanno aiutato a sorridere non solo veramente non sa se dovessi ringraziare una per una tutte le persone che mi hanno fatto sorridere io passerei proprio questo video mi durerebbe tre ore però solo per l'elenco delle persone sia tra quelle che sia tra voi che mi seguite qua su questo canale che con un messaggio con un commento mi fate sentire la vostra vicinanza il vostro sostegno io ve lo devo dire ve confesso ci sono stati momenti brutti in quest'anno che sono riuscito a risolvere a passare grazie proprio ai messaggi che mi arrivavano da da voi dai vostri commenti da una non per forza da un complimento da un apprezzamento che mi veniva fatto ma anche da da un confronto da una chiacchierata che ci siamo fatti veramente voi non lo so quanti di voi ne sono conseguiti però adesso ve ne rendo consapevoli mi avete aiutato tantissimo più di quanto forse non avete pensato di fare forse per voi era un commento semplice normale dato così ma in realtà per me ha significato tantissimo ecco è un messaggio che mando a ognuno di voi tutti quanti tutti quanti voi veramente anche quando anche a quelli che mi hanno dato commenti un po più critici veramente grazie grazie veramente grazie perché mi avete mi aiutate voi ogni giorno a restare con i piedi per terra perché una delle mie paure più grandi quando sto qui su youtube è di rischiare di credermela troppo di diventare arrogante come succede ad alcuni creator su youtube che ho smesso di seguire perché erano partiti dal basso e poi si hanno iniziato ad avere atteggiamenti un po divistici per carità atteggiamenti loro possono fare ciò che vogliono è una cosa che io vorrei evitare personalmente una cosa che io non voglio fare non voglio mettermi su un piedistallo io non sono nessuno ci tengo a dirlo io soprattutto a voi che mi chiamate prof il prof è un ruolo è una maschera che indosso non è un titolo io sono uno che studia uno che studia e che racconta a voi quello che studia le cose che ha studiato io praticamente per me questi video sapete le mie video lezioni sapete cosa sono sono praticamente io rimango legato agli esami universitari proprio grazie a questi video perché per me ogni video è praticamente un esame all'università che faccio e voi siete tutti quanti i membri in tutte i professori e siete voi per me i prof e gli assistenti dei professori a cui faccio a cui faccio a qui che mi chiedono l'argomento e al quale io espongo l'argomento dell'esame veramente mi mi serve anche a mantenermi giovane e soprattutto ragazzi ve lo dicevo mi mi aiutate a rimanere con i piedi per terra a nostra fare perché io voglio portare avanti questo progetto di questo canale e soprattutto però voglio però rimanere umile perché penso che l'umiltà sia la base di tutto l'umiltà mi permette di conoscere cose nuove di studiare ancora senza pormi dei limiti di capire magari dove dove ho sbagliato magari in passato dove ho sbagliato e correggermi di conseguenza migliorarmi per questo io accetto sempre spesso aspetto accetto sempre le critiche che mi vengono fatte perché penso che le critiche mi aiutino forse più dei complimenti perché mi aiutano a crescere capisco dove sbaglio e mi miglioro di conseguenza e voglio rimanere così per sempre voglio rimanere ecco non voglio diventare non voglio essere un professore voglio essere un eterno studente che continua a dare esami all'università ecco veramente e grazie a voi che mi aiutate sempre a rimanere umile a rimanere con i piedi per terra a rimanere uno di voi un appassionato di questi argomenti di storia un nerd incallito uno che legge guarda serie tv che guarda house of the dragon e ci passa le ore a dire ma chissà quali riferimenti ah ecco ci sono questi riferimenti storici bene vi devo segnare ce li dico e li scrivo nel libro così ne parliamo a tutti quanti a tutti quanti e quindi grazie grazie a voi che mi seguite un grazie poi ai miei amici di ogni giorno alle persone a cui voglio bene che con i quali condivido le mie giornate non tutte le giornate magari ma le quali una una serata una una tammurriata una cena una serata a teatro o al cinema anche una corsa in scooter fatta con il vento con il vento di dicembre in faccia è veramente grazie siete tutti quanti nel mio cuore se ho un cuore se veramente come dicono molti ho il cuore troppo grande ce l'ho perché devo contenere tutti quanti voi a cui voglio bene e poi la mia famiglia la mia famiglia che ne è bene o ne è male continua sempre a sostenermi anche per queste anche in queste scelte che magari vedono con un po' più di disapprovazione perché io sono lo sbalestrato della famiglia sono quello lunatico sono quello che vive per l'arte quello meno sono quello un po' più più nuvola nuvola in mezzo a tanti terra terra e poi soprattutto i miei nipoti i miei nipoti che sono la mia gioia più grande i miei due nipoti che che ai quali voglio trasmettere la mia stessa voglia di sapere la mia stessa curiosità il mio stesso pormi continue domande il non perdere mai la curiosità di conoscere la la voglia di sapere sempre e soprattutto anche la gioia la gioia di ogni giorno io riesco a mantenermi veramente vi parlavo prima degli acciacchi della mia età bene a parte gli acciacchi fisici mi sento giurioso proprio come un bambino proprio grazie ai miei nipoti che me ne sono accorto durante anche queste feste di natale riescono veramente a farmi sentire bambino riescono a farmi sentire proprio a mio ancio e forse riesco se la parte più adulta della mia famiglia continua a farmi sentire un po' intimorito loro riescono a farmi sentire bene perché io per loro sono zio luigi non sono per tutti gli altri sono sono ho tanti nomi ma devo dire che fra tutti i nomi che ho al momento luigi lucio prof professor lucio lu milo milosa questo queste questa le varie varianti del mio nome del mio cognome i miei nomi d'arte quant'altro zio luigi è il nome a cui sono molto più affezionato e ne sto riscoprendo veramente la gioia di esserlo forse non sarò mai un padre forse non lo so dipende come andrà la mia vita però almeno intanto sono contento di essere zio luigi e sono contento di essere importante per i miei nipoti sono contento di essere di avere un di essere nei pensieri di qualcuno in maniera disinteressata e come possono essere i cuori puri e semplici di due bambini ecco e veramente penso che chi è zio come me o anche e soprattutto chi è genitore possa comprendermi e scusate sto andando un po' troppo nel sentimentale giusto per dirvi un poco tutte le gioie di quest'anno e non vi ho detto non vi voglio trattenere oltre perché sarete impegnati con i preparativi qua di questa di questo finale di anno ebbene queste è stato un po' le somme di questo 2022 che è un anno che mi ha fatto raggiungere dei traguardi mi ha dato tante soddisfazioni mi ha dato ancora qualche doloretto però è stato più gestibile grazie anche diciamo gli alti hanno fatto un ottimo contrapeso con i bassi per questo 2023 come vi ho detto voglio investire maggiormente sui contenuti di questo canale voglio prendere le cose in maniera molto più professionale molto più seria voglio impegnarmi maggiormente voglio impegnarmi maggiormente anche nel lavoro esterno a questo canale e per quanto riguarda la vita privata si vedrà ho degli affetti e sono contento di averli magari qualcuno potrebbe volversi nel corso del tempo chi lo sa per il resto io mi godo il momento non voglio basarmi troppo sul futuro sui pronostici cosa andrà bene cosa andrà male alla fine se c'è una cosa che la vita mi ha insegnata è che il bene o il male arriva sempre tu non ci puoi fare niente puoi solo accettare le cose come stanno puoi magari combattere affinché cambino puoi portare pazienza puoi cercare di trovare il bene anche nel male puoi conservare nel tuo cuore il ricordo magari di chi non c'è più fino a cancellare il dolore del fatto che hai detto addio a quella persona e ricordando soltanto il fatto che ci sia stata questo è un po' di insegnamento che ho avuto da quando da quando ho perso mia madre ormai quando è stato sì ormai otto anni fa e quello è forse l'insegnamento più duro ma anche più importante che ho avuto i dolori alla fine li porterò sempre con me ma posso decidere se lasciarmi schiacciare da loro oppure renderli una placca della mia corazza viverci andare avanti e ricordare che più che la perdita è stato l'aver vissuto quella quell'affetto e con questo vorrei magari mandare un abbraccio e un senso di vicinanza a chi magari quest'anno ha dovuto dire addio a persone importanti e tenete a mente che col tempo adesso magari sarà molto più triste più difficile più doloroso piangete sfogatevi per qualunque cosa per qualunque motivo voi stiate soffrendo ma non lasciate che il dolore vi schiacci perché alla fine sì il dolore sarà comunque una parte di voi sarà sempre una parte di noi ma alla fine tenete a mente che i ricordi che resteranno sono quelli belli e se avete perso qualcuno ricordatevi magari adesso piangete il fatto di averlo perso ma da qui a qualche tempo ricorderete non di averlo perduto ma di aver avuto quella persona con voi di averla avuta di averla conosciuta e di averla sempre nel vostro cuore e che per il resto avete tante altre persone nel vostro cuore quindi il mio invito qua ragazzi è di rendete grande il vostro cuore come io sto cercando di rendere più grande il mio perché più persone importanti avete nel vostro cuore quindi dovete fare più spazio facciamo spazio nei nostri cuori per le persone per cui vale la pena fare spazio nel nostro cuore cerchiamo di essere sempre contenti cerchiamo di vedere le cose sotto la luce del sole più che sotto il buio è brutto vedere le cose sempre in negativo me ne sto accorgendo anche rapportandomi con persone a me vicine e io ovviamente non posso decidere gli altri come devono stare o come devono decidere di vivere di mio cerco di essere vicino a chi ne ha bisogno e di mio cerco di vivere in maniera serena perché magari sperando di magari di passare un po della mia serenità anche a chi mi sta vicino e con questo augurio io vi mando un abbraccio fortissimo a tutti quanti voi ai vostri cari spero che quest'anno che sia stato bello brutto vi abbia comunque anche se con poco vi abbia comunque fatto almeno un po di bene e vi auguro che questo passaggio al prossimo anno sia positivo e vi do l'incentivo ad avere tanta forza tanta forza per affrontare le difficoltà affrontare di petto e dare tempo al tempo perché il tempo cura sempre le ferite anche le ferite più profondi più profonde possono sanarsi io quindi vi abbraccio tutti quanti di cuore veramente vi ringrazio ancora tanto per aver reso speciale questo 2022 io vi aspetto nel 2023 con tante nuove iniziative con tante nuove rubriche con il podcast di The Sun in Splendor e con altre video lezioni altri argomenti altri personaggi di cui vorrò parlare personaggi noti personaggi meno noti soprattutto voglio investire soprattutto sui personaggi meno noti e meno conosciuti perché penso che quello sia la cosa più importante come mi fa capire anche la mia carissima amica e youtuber Ilaria Ciccarelli in arte Diana 92.4 che se mi sta guardando pure saluto e vi auguro buon anno vabbè poi Ilaria ti manderò i messaggi di augurio in privato tranquilla anche se non mi hai vista ci risentiamo e ci risentiamo prestissimo a tutti quanti voi io vi auguro buon anno e ci vediamo il prossimo anno dal vostro Lusio è tutto e per l'ultima volta questo 2022 è in attesa di farlo nel 2023 e ciao